Io sono Angelo Ariemma e collaboro a questo libro in quanto membro del Movimento Federista Europeo di Roma, della sezione di Roma, interessato alle tematiche europee e al federalismo europeo. Si parla tanto di Europa in questo tempo ma se ne parla sempre in maniera negativa, invece bisognerebbe vedere tutto il positivo che c'è stato e andare avanti sulla strada. Per esempio noi del Movimento abbiamo promosso una ICE, cioè un'iniziaria di cittadini europei che viene consentita dal nuovo trattato di Lisbona per uno sviluppo sostenibile che implica anche una tassazione a livello europeo e quindi delle risorse che siano solo europee e non gestite dagli Stati nazionali come primo passo per gli Stati Uniti d'Europa dove una federazione veramente politica sia creata al più presto per evitare questa crisi e questo populismo dilagante in tutta Europa ma soprattutto qui in Italia. si può trovare anche online, si può firmare anche online al sito New Deal for Europe e spero che vada avanti, c'è tempo fino alla primavera prossima, quindi non è legata alle elezioni. Grazie. 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 Grazie a tutti.